Grande è la confusione sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente, così diceva il presidente della Cina Mao Zedong, ma non altrettanto possiamo dire noi in questo momento. La confusione è tanta e la situazione non è per nulla buona, anzi diciamo pure che ormai è guerra di tutti contro tutti. Il governo emana le regole per la ripresa delle elezioni in presenza, concordandole in sede di conferenza Stato-Regioni, ma poche ore dopo le stesse regioni iniziano ad andare per conto loro. A dichiarare subito senza esitazioni che non avrebbero rispettato le regole nazionali erano stati i presidenti del Veneto, del Friuli, delle Marche, decidendo che nelle loro regioni di didattica in presenza nella secondaria di secondo grado, si parlerà a partire dal primo febbraio. Poco per volta però in quasi tutte le altre regioni è stato deciso di spostare più in là la data del rientro e così c'è chi riprenderà il 18 come Piemonte, Liguria, Lazio, Puglia, Molise e chi rimanderà al 25 come Campania, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria. Oggi 11 gennaio si riprende invece in Valle d'Aosta, Toscana e Avruzzo. Paradossalmente la scuola è ripresa in presenza il 7 gennaio come inizialmente previsto dal governo, soltanto nel Trentino Alto Adige, cioè nella regione più autonoma d'Italia, formata da due province e se stesse autonome. Questo per quanto riguarda la secondaria di secondo grado, come abbiamo detto, ma nel primo ciclo le cose vanno un po' diversamente perché quasi dovunque si è già ripreso il 7 e si riprende oggi o al massimo il 18 in poche altre regioni. Anche su questo non mancano però i contrasti. In Sicilia i sindacati del comparto protestano e chiedono che anche per la scuola dell'infanzia si tenga ferma la data del primo febbraio. Intanto la FLC parla di caos istituzionale e organizzativo e afferma che si moltiplicano le ordinanze regionali, i prefetti assumono decisioni che mettono in discussione l'autonomia scolastica mentre aumentano a dismisura anche le ordinanze dei sindaci. Secondo il sindacato quanto sta avvenendo sui territori, sommato alla incapacità di coordinamento del governo, sta conducendo verso concrete forme di autonomia differenziata che la FLC-CGL considera il pericolo più grave per l'unità del nostro Paese e per il nostro sistema di istruzione. Ma la posizione sindacale non sembra del tutto coerente perché mentre la FLC nazionale afferma testualmente che le scelte sul rinvio dell'apertura delle attività didattiche erano e devono essere del governo, accade poi che in Sicilia la stessa FLC si dichiara del tutto d'accordo con il rientro al primo febbraio deciso dalla Regione e anzi si duole del fatto che l'infanzia debba rientrare prima. Ma le contraddizioni non finiscono qui perché non bisogna dimenticare che proprio oggi in tante piazze italiane genitori e studenti protestano per chiedere che si ponga fine alla didattica distanza e che si riprenda a fare lezione in classe il più presto possibile. E in piazza oggi c'è tra gli altri il comitato priorità alla scuola che fino a questo momento ha avuto il sostegno di tutte le organizzazioni sindacali. Come si può constatare la confusione è davvero tanta, forse qualche schiarita potrebbe arrivare a partire dai prossimi giorni in concomitanza con la verifica di governo data ormai per imminente. Su questo tema che è il tema del giorno noi continueremo a tenervi informati quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it continuate a scriverci, a mandarci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi daremo conto di tutto questo come sempre. Grazie a tutti.